Il problema dell'immigrazione è un problema molto complesso, che va affrontato in maniera molto 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 articolata. Uno degli aspetti che bisogna affrontare è quello che ho detto prima, cioè signori, il paese è vostro, dovete pure, non è possibile che gli afghani vengano qui e che i soldati italiani vadano in Afghanistan. E' chiaro che questa affermazione va anche un pochino interpretata, però la sostanza è questa, che dobbiamo andare noi in Libia, dobbiamo andare noi in Somalia, non è possibile. Quindi lei è anche contrario a cambiare magari nel loro paese dando degli aiuti? No, bisogna fare anche quello, non si può fare solo quello, non si può pensare adesso di andare a mitragliare i barconi prima che partano. E' come si distingue la barca che deve essere utilizzata per andare a, per venire in Italia. Oppure quando c'è stato Zaglia, se n'era uscito, ah andiamo a controllare i sermoni in italiano. Eh sì, l'imam ci notifica, notifica le forze di polizia quando è che deve fare il sermone, che deve fare in italiano. E' così, questura, i carabinieri non li ha sentiti tutti quanti. Cioè, è una cosa che non esiste, dai, serve soltanto per avere un quarto d'ora in autorità sui giornali. Purtroppo serve anche a vincere le elezioni perché a Vicenza è stato sistemato il campo nomadi e i soldi li aveva stanziati il ministro Maroni. Qual è la situazione in Vicenza? Qual è la situazione? Gli abbiamo staccato la luce perché non pagavano le bollette. Mi sembra giusto perché non è possibile accampare, diciamo, criteri culturali di un modo di vivere che è proprio. E beh, se è tuo, gesiscitelo, tu non puoi gravare sulla collettività perché hai fatto delle scelte che devono ricadere su di te quelle scelte. E allora le chiedo direttamente, vi sto prendendo sempre spunto dal nostro titolo, problema o risorsa a sua... I peggiori nemici degli immigrati, perché adesso tutte queste persone che parlano, non è che parlano per gli immigrati, per quelli che sbarcano, no, hanno paura di quelli che ci sono già e hanno paura che una parte di quelli che arrivano vadano a incrementare le fila di quelli che ci sono già. Cioè, se diciamo che la pressione dei, diciamo, di quelli che non vivono correttamente, onestamente, fosse attenuata, ci sarebbero molte minori resistenze all'arrivo di questi che arrivano quei barconi. Perché nei barconi, non so tutti i santi, qui se noi continuiamo risorsa o problema, ma perché? Perché i migranti sono tutti risorsa o sono tutti problema, o sono tutti bravi o sono tutti cattivi, tutti santi o tutti demoni, non è affatto così.